Sarà il primo traghetto italiano alimentato a gas naturale liquefatto e sarà realizzato presso i cantieri Rosetti Marino di Ravenna. La consegna è prevista entro il 2017. Il progetto innovativo è della compagnia messinese Caronte Turist e prevede successivamente la realizzazione di una unità gemella. Un investimento complessivo da 30 milioni di euro. Nei prossimi giorni la firma del contratto. La nave, un'unità Ropax da mille passeggeri e doppio ponte per il carico, nascerà su un progetto di uno studio norvegese ispirato a quei mezzi che da tempo già operano nei mari del nord Europa. Caronte Turist decide di puntare al rinnovamento e l'attuale flotta investendo dunque su nuove navi che possano essere alimentate contemporaneamente a gas naturale liquefatto e a gasolio. Il progetto non dovrebbe ricevere alcun cofinanziamento ma la compagnia probabilmente si rivolgerà alla Banca Europea degli Investimenti. Successivamente bisognerà realizzare anche gli impianti per il bunkeraggio. Lo scorso 21 giugno Caronte Turist ha celebrato i primi 50 anni di servizi marittimi fra la Calabria e la Sicilia, durante i quali sono stati trasportati 230 milioni di passeggeri, 80 milioni di auto e oltre 20 milioni di mezzi commerciali, percorse 4 milioni di miglia nautiche. Un'azienda che fattura 150 milioni di euro e dispone in questo momento di 15 traghetti con mille marittimi imbarcati. Un'azienda che fattura 150 milioni di Eurovisuale